Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Inizio col piacere, veramente, lo condivido proprio con la semplicità, cioè il piacere di un saluto che è collettivo, perché siamo qui noi oggi come redazione del blog La Letteratura è noi, dopo più di dieci anni di cammino di comunità intellettuale, umana, vissuta insieme, e quindi il saluto è veramente per tutti, ai presenti, un saluto caro a chi è collegato a casa, a chi è a distanza, un saluto caro a chi ci ospita, all'editore che ci ha permesso di vivere nella libertà in questi anni il nostro percorso, un saluto anche ai vecchi redattori, tanta gente è passata per La Letteratura e noi, ma un saluto anche a chi ha contribuito, a chi ha scritto pezzi, a chi ha commentato anche semplicemente con un commento su Facebook, è un nostro pezzo in cui ha attivato magari una dialettica a volte anche faticosa, di fatto ha fatto parte di una comunità, una piccola comunità che però a un certo punto si è messa in cammino come comunità intellettuale. E un ringraziamento ovviamente anche a un maestro comune che è Romano Luperini, qualche anno fa, quando era ancora giovane nel blog, ha lessi un intervento che lo aveva scritto citando Zygmunt Bauman che diceva, l'ultimo grande libro di Bauman in cui parlava del maestro e Bauman dice come potremmo diventare noi stessi senza un eredità, senza un maestro. Ecco io credo che tutti, molti di noi qua presenti, sicuramente noi della redazione abbiamo avuto anche il privilegio di un maestro comune, abbiamo il privilegio di un maestro comune. E sì, siamo qui anche oggi come insegnanti di lettere, come donne, uomini impegnati nella scuola, nell'università, ma nel mondo, nella società, a difendere la funzione delle umane lettere in un tempo come abbiamo scritto nel manifesto di questo convegno di disumanizzazione. E siamo qui in difesa del pensiero critico, di una didattica fondata e libera che non sia asservita e quindi di una teoria della didattica e di una pratica dell'insegnale perché si fa a scuola. Ieri dicevo, parlavo con un amico, quante volte noi torniamo a scuola, da casa a casa da scuola e diciamo oggi ho fatto Manzoni, oggi ho fatto Leopardi, oggi ho fatto Dante. Ecco io credo che il verbo fare sia un verbo che abbia molto senso in questo caso perché quando facciamo un autore facciamo qualcosa, creiamo una realtà. e quindi difendiamo la letteratura, il testo, la parola pensata, espressa, storicizzata, vivificata nell'interpretazione come pietra angolare del nostro stare qui oggi, del nostro stare in classe, del vostro essere stati in classe stamattina, noi no perché abbiamo preso il giorno di permesso banalmente, ma ieri eravamo tutti anche noi tra i banchi. E siamo qui a reclamare ostinatamente senso alla pratica della letteratura, in difesa di un posto che noi continuiamo a reputare libero, franco, la scuola e con essa l'università. Nonostante viviamo un tempo di ridefinizione dei termini, del vocabolario che definisce questi luoghi in modo a volte preoccupante e di cui siamo ben consapevoli. Sapete le forme sono sempre contenuti che poi sedimentano e di questo poi parlerà bene Daniele Lovetere. E nonostante anche stiamo vivendo un tempo in cui c'è un ingresso massiccio di pensiero che a volte noi comunque reputiamo se non altro non in linea con la funzione stessa della scuola, dell'università, di ridefinizione delle nuove politiche di formazione, di reclutamento dei docenti, di programmazione degli impianti culturali e di poi ci diranno Luisa Mirone e Stefano Rossetti. Siamo qui, di questo veramente lo diciamo con convinzione, come diceva prima Romano Luperini, a difendere il valore irrinunciabile della pratica letteraria come antidoto, ma un antidoto complesso alla deriva del mercato, alla mercificazione delle coscienze, all'individualismo, al cinismo, al narcisismo, che non sono concetti campati in aria, ma sono esperienza reale, drammatica, che noi spesso facciamo nella vita di tutti i giorni, anche dentro le nostre scuole, anche dentro le nostre università. E siamo qui anche convinti e consapevoli che questa mattina, ne siamo certi, qualcuno di noi, anche tra i presenti, tra chi è stato collegato, chi è collegato, avrà fatto esperienza attraverso una pagina importante, portata in classe, di come liberare quel cuacervo di tensioni che c'è dentro un testo letterario, sia fare esperienze di come il testo si mette in relazione con l'estratesto. Ciò che fu e ciò che è stato si mette continuamente in relazione con ciò che è e ciò che è oggi, in questo momento. Ossia fa pratica a tutti i livelli, in qualsiasi ordine, nella classe più difficoltosa come quella più virtuosa, nella condizione più disagiata dell'ultimo precario o nella condizione apparentemente più garantita, di come portare quella pagina in classe, sia sollevare ostinatamente lo sguardo verso un orizzonte di senso, una risposta politica che non sia innocua. Perché certo non è innocua la letteratura in cui crediamo, la letteratura che leggiamo, come poi ci racconteranno anche Linda Cavadini ed Emanuele Sarbandini. Non sono state innocue, ad esempio, e penso alla mia terza dell'anno passato, le parole di Petrarca, queste parole di Petrarca del secretum. Il mio grave dolore nasce da qui, mi trovo infatti nelle condizioni di colui che sia chiuso da ogni parte da un numero enorme di nemici, senza possibilità di scampo, senza speranza di misericordia, senza conforto. Sono quelle pagine meravigliose del secondo libro dove Petrarca parla dell'accidia. Mi ricordo che banalmente, leggendo queste pagine e commentandole onestamente, al termine della lezione Luca mi è venuto a cercare dicendomi che si era sentito invaso da quelle parole, messo in tensione, scosso, discusso e si è aperto un dialogo con Luca. Non sono state innocue le pagine della storia, ne ho parlato anche in un articolo sulla letteratura e noi. Le parole della storia per Alice e la sua classe. Alice che in questo oggi pomeriggio, ieri ci siamo messaggiati, sta seguendo una delle sue prime lezioni all'università. L'anno scorso abbiamo letto per intero il libro della Morante e a un certo punto Alice mi ha mostrato il suo libro, aveva letteralmente saccheggiato quelle pagine. Sono pagine particolari, perché sono le pagine immediatamente dopo l'abuso, la violenza subita da Ida. E Alice in particolare aveva sottolineato queste parole. Essa non aveva mai avuto confidenza col corpo e corpo, al punto che non la guardava nemmeno quando si lavava. Il suo corpo era cresciuto con lei come un estraneo e neppure nella sua prima giovinezza non era mai stato bello, grasso alle caviglie, con le spalle esili e il petto precocemente sfiorito. E Alice aveva glossato quelle parole con queste parole che lei mi ha permesso di farvi vedere. Il corpo post gravidanza è ancora un corpo di donna meravigliosa. Ecco accade questo con la letteratura in classe, io sono convinto, siamo convinti che ognuno di noi ha fatto esperienza di questo. Visto da fuori, noi poi quella mattinata abbiamo continuato a parlare. Noi eravamo una classe che stava discutendo di abuso di una donna violata. Avremmo probabilmente allarmato anche qualche genitore, ma in realtà sappiamo che quando si attiva quella cosa lì, quell'esperienza che Romano Ruperini ha definito la comunità ermeneutica, succede qualcosa di importante a scuola ed è questo il motivo per cui continuiamo a portare certi testi a scuola. Ci rendiamo conto come insegnanti, come intellettuali, che se noi guardiamo quello che succede dentro le nostre classi, quando riusciamo a mettere in atto questa pratica, diventa ancora più assordante il rumore di fondo che percechiamo, di chi vorrebbe annegare le nostre pratiche spesso in burocrazia inutili, nello svilimento delle nostre pratiche attraverso dei lessici, dei vocabolari che non appartengono alla scuola. Addirittura, in certe esaltazioni anche retoriche, di concetti apparentemente importanti, condivisibili, ma che rischiano di diventare un'arma a doppio taglio, a volte una concezione anche maternalista e paternalista della centralità dello studente, uno svilimento dell'importante ruolo di media azione dell'insegnante. Mentre invece ci rendiamo conto quanto sia importante, oggi, essenziale, proprio oggi, accompagnare le classi, anche quelle più difficili, anche gli studenti più indietro, alla scoperta di ciò che conta, di ciò che è alto, di ciò che sfida, di ciò che a volte impaluda, perché la letteratura è questa. Quando facciamo letteratura in classe proponiamo continue allegorie dell'esistere. L'esistenza è fatta sicuramente dell'aria buona di Cieli Tersi, ma è fatta anche a delle selve intricate di quando ci si perde. E qui noi innestiamo anche la nostra idea di didattica della letteratura, perché noi reputiamo che una didattica è tale e è vera solo se si è onesti e fondati con ciò che si porta in classe. Se non ci si esime, non ci si sottrae dall'onere del commento fondato, che è l'unico modo per arrivare a capire. Il commentare in modo serio, storicizzato, rispettando il dettato del testo. E quello è il passo preliminare, ma necessario, richiesto, eticamente imprescindibile, per arrivare poi alla pratica dell'interpretare e quindi al poter comprendere, cioè portare con sé. Commentare seriamente lì è l'insegnante che ha il suo ruolo, per poter far capire, capire insieme con gli studenti e poi interpretare l'insegnante e poi la classe che interpreta per comprendere, prendere con sé, portarle dietro. E allora si apre un'opzione conoscitiva. Un altro rumore di fondo che percepiamo è che un lessico anestetizzato, l'efficientismo burocratico, a volte paradigmi pedagogici che prescindono indebitamente dal confronto con l'aura. O addirittura ingerenze. Noi viviamo in un tempo storico in cui il mercato, i grandi colossi, addirittura internazionali, stanno mangiandosi poco a poco la scuola. Ecco, in questo contesto la letteratura è l'unica pratica che continua a immettere all'interno dell'aula il seme sano, l'atto liberante del tirare fuori. Viviamo in un mondo che letteralmente va a fuoco sotto i nostri occhi. La guerra, la crisi ambientale, la rivoluzione demografica. Mark Fisher diceva una generazione sarà infelice perché è allenata e questo non lo sperimentiamo nelle nostre classi. Ecco, quando noi non rinunciamo all'equivoco della letteratura dell'unico dato emozionale, dei buoni sentimenti, del principio di piacere assurdo come unico criterio per cui possa decidere quale letteratura entrare e non entrare a scuola, addirittura sottoporci a certi dogmi che non hanno senso come l'idea del testo noioso. Quando noi riusciamo a forzare questo sbarramento, la letteratura diventa un luogo in cui tutto questo viene scardinato. E allora ci rendiamo conto di quanto oggi, alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, sia decisivo, fondamentale, tornare a parlare dello straneamento delle prime righe di rosso malpelo. Perché attraverso quei testi, quelle poche parole, noi disinneschiamo veramente quell'automatismo della percezione. Riusciamo a mettere in condizione gli studenti di capire che ciò che è presentato come normale non lo è e viceversa. Oppure quando noi facciamo Machiavelli e mettiamo gli studenti di fronte all'oiato, alla cesura che si crea tra ciò che è e che vorremmo che fosse. Ma proprio alla luce di questo riusciamo a contemplare l'ipotesi storica, riusciamo a ragionare con senso storico sul tema dell'utopia, mettiamo in mano agli studenti le chiavi di volta per poter ipotizzare anche un futuro diverso. Oppure quando facciamo Montale e attraverso un testo, attraverso i limoni, mettiamo con noi gli studenti il limine a una domanda di senso che potrebbe essere anzi è in evasa, ma non ci si sottrae la tensione, si riesce a guardare i cocci a guzzi di bottiglia, ma quel muro noi lo perimetriamo con le parole di Montale, ecco che noi forniamo agli studenti delle chiavi per entrare nella contemporaneità, per vivere il mondo, per cambiare il mondo, a diventare uomini e donne. Qualche giorno fa Emanuele Zinato ha scritto sul nostro blog che la letteratura è preziosa, ma soprattutto la letteratura che è fatta anche di invettive, di osincrasia, socialità, rabbia, incoerenza ideologica e logica dei suoi personaggi, che spesso e per fortuna diciamo noi sono spesso scomodi, scissi, ineffabili, perfino ripugnanti, sono ambigui e sono polisemici. E un giorno Franco Fortini, parlando agli studenti di poesia, ha detto queste parole. Leggere una poesia, anche fra sé e sé o ad alta voce, è eseguirla, interpretarla e quindi anche modificarla, recrearla. Ecco, quest'ultimo verbo è importante per noi insegnanti, ricreare una realtà, continuare a fare letteratura in classe, commentare i testi per capirli nell'interpretarli e per comprenderli, portarli con sé, significa in ultima istanza aprire la possibilità della costruzione di un mondo più degno. Perché certo non salva la letteratura, non serve la letteratura, ma accomuna la letteratura. Ci rende comunità, rende la classe comunità. Nel momento stesso in cui, grazie alla medazione dell'insegnante è una comunità che interpreta e solo le comunità, se sono tali, sono in grado di codificare risposte che saldino le catene sociali, che sappiano trovare codici, parole, silenzi, che possano porre argine a ciò che umano non è. Grazie. Si sente che questo? Sì, sembra di sì. Allora, io riprendo da dove ci ha lasciato Roberto Contu e provo a dare una declinazione esplicitamente politica al nostro discorso, che però evidentemente è lo stesso. E faccio un confronto, parto anzi da due confronti. Il primo è tra la lettera che Papa Francesco ha scritto quest'estate sul ruolo della letteratura nella formazione. Papa Francesco è stato insegnante di letteratura in un seminario. Come? Meglio di là? Allora. Ora sono a beneficio di video? Sì. Allora, dicevo, parto da un doppio confronto. Il primo è fra questo testo, che è la lettera che Papa Francesco quest'estate ha scritto sul ruolo della letteratura nella formazione. Papa Francesco è stato insegnante di letteratura in un seminario. Il secondo testo, invece, sono le raccomandazioni del Consiglio europeo sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 2018, nella parte relativa all'ultima competenza, che è della cosiddetta competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. Vediamo qualche, un brevissimo ovviamente estratto, che però è significativo. Ecco cosa scrive Papa Francesco. Quando il mio pensiero si rivolge alla letteratura, mi viene in mente ciò che il grande scrittore argentino Orge Luis Borges diceva ai suoi studenti. La cosa più importante è leggere, entrare in contatto diretto con la letteratura, immergersi nel testo vivo che ci sta davanti, più che fissarsi sulle idee e commenti critici. Non è molto diverso da quello che diceva prima Roberto Conto della classe che legge. E Borges spiegava queste idee ai suoi studenti dicendo loro che forse all'inizio avrebbero capito poco di ciò che stavano leggendo, ma che in ogni caso essi avrebbero ascoltato la voce di qualcuno. Ecco una definizione di letteratura che mi piace molto. Ascoltare la voce di qualcuno. E non si dimentichi quanto sia pericoloso smettere di ascoltare la voce dell'altro che ci interpella. Si cade subito nell'autoisolamento, si accede a una sorta di sordità spirituale, la quale incide negativamente pure sul rapporto con noi stessi e sul rapporto con Dio, a prescindere da quanta teologia o psicologia abbiamo potuto studiare. Attenzione al contenuto e alla retorica, allo stile di questo testo, ma anche di quest'altro. Ecco le prime righe relative all'ottava competenza. La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e rispetto di come le idee e significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee, il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Il secondo confronto non è mio, anche se ha ispirato di fatto il mio, ma lo traggo dalle ultime pagine di questo bel saggio di Amitab Ghosh, che si chiama La grande cecità, un saggio dedicato al cambiamento climatico, nell'equipagine appunto Ghosh si interroga angosciosamente sul fatto che la letteratura, che soprattutto col romanzo nell'ottocento e il novecento è riuscita a rappresentare la totalità sociale, oggi non ci riesce più, perché se riuscisse a rappresentare la totalità forse dovrebbe occuparsi della cosa più gigantesca della nostra epoca, che è il cambiamento climatico, che non ci riesce più. Nel fare questo fa un confronto anche lui, e di nuovo abbiamo il Papa, io non sono credente, oggi però sto citando molto il Papa, ma spero capirete perché, di nuovo il Papa, nell'enciclica laudato sì, che è proprio dedicata al cambiamento climatico, o meglio nel lessico di Francesco, sulla cura della casa comune. E dall'altro lato l'accordo di Parigi. Sono entrambi i testi del 2015, cioè dell'anno prima rispetto al testo di Ghosh. Ecco che cosa scrive Ghosh sul confronto, su questi due testi. Ci si poteva immaginare che, trattandosi di un testo di carattere religioso, l'enciclica del Papa fosse scritta in uno stile allusivo e fiorito, e che l'accordo di Parigi fosse invece cristallino e incisivo. In realtà è vero il contrario. Non si tratta solo di stile, ma proprio di sostanza politica, perché aggiunge. Si potrebbe pensare che l'enciclica contenga più illusioni e più desideri rispetto all'accordo. Invece no, non è così. È piuttosto l'accordo di Parigi a invocare ripetutamente l'impossibile. Ad esempio, l'ipotetico proposito di limitare l'aumento della temperatura media globale a un grado e mezzo, obiettivo quasi unanimemente considerato irraggiungibile. Osserva Ghosh che nell'accordo di Parigi non si mettono mai in discussioni paradigmi politici ed economici dominanti. Al contrario, l'enciclica è estremamente dura nei confronti dell'idea di una crescita infinita o illimitata che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Il virgolettato è il virgolettato e il Papa. Continua Ghosh. Nell'accordo di Parigi il linguaggio è usato come strumento di dissimulazione e ritegno. Le due parole sono, ci torniamo, sono importanti. Se leggiamo le espressioni che poi Ghosh cita dall'accordo direttamente, troviamo alcune che non dovrebbero esserci troppo estrane, perché il linguaggio della post-politica, poi gli daremo un nome diverso, di oggi e anche il linguaggio con cui si parla di educazione spesso utilizza questo linguaggio ed è accelerare, favorire e consentire l'innovazione. Stakeholder, che sono i portatori di interesse, non possiamo spiegare che cosa siano, buone pratiche, partecipazione del settore pubblico e privato, trasferimento tecnologico. Nell'enciclica, in modo molto franco, si parla di catastrofe e disastro. Nell'accordo si parla di impatti ed effetti dannosi del cambiamento climatico, con evidenti eufemismi. Insomma, che cosa dice Ghosh quando trae le conseguenze? L'accordo di Parigi è uno schermo volto a celare un'intesa implicite, patti non confessati e sotterfugi decifrabili solo dai ben informati. Non è un segreto che i miliardari, grandi aziende e imprenditori climatici hanno svolto un ruolo importante nei negoziati di Parigi. Come spesso accade con i testi, la retorica dell'accordo serve a chiarire molto di ciò che viene taciuto, parla non parlando, dice il contrario di quello che dice esplicitamente, ovvero che il suo intento, già in parte raggiunto, è creare un'ulteriore frontiera neoliberale dove le grandi aziende, degli imprenditori e funzionari pubblici potranno unire le forze per arricchirsi a vicenda. Domanda, che significa tutto questo con quello per cui ci siamo riuniti oggi? Come si può notare, credo, anche solo dai due brevissimi passi che ho preso, che ho estratto, la lettera del Papa parla di letteratura e del suo insegnamento in un linguaggio basato sulla concreta esperienza e sulla raffinata cultura. Le ho messe in due colori perché poi vi proietto i testi e poi andiamo a vedere, insomma potete riosservare i due o tre passaggi interessanti. La concreta esperienza è rinvenibile nel fatto che il Papa parla della sua esperienza personale e dell'esperienza del lettore, nei termini dell'immedesimazione, del dialogo con l'altro, della memoria e del raccoglimento in sé. La seconda, la raffinata cultura nel fatto che quel testo è nutrito di citazioni letterarie, c'era Borges, ma poi anche teologiche ovviamente e bibliche, come è ovvio aspettarsi dal Papa. Insomma, nel testo del Papa l'esperienza umana e la cultura umanistica sono ancora tessute insieme, si richiamano organicamente. Non c'è nessun tipo di astrazione e adulterazione. Si parla un linguaggio umano, prima che umanistico. Come parlano invece... Ah, dimenticavo, prima vi devo mostrare di nuovo il testo del Papa. In rossa avete la citazione da Borges e in giallo i due o tre passaggi nei quali appunto c'è l'esperienza personale e l'esperienza del lettore e l'ascoltare la voce di qualcuno e l'immedesimarsi e il dialogare con l'altro. Come parlano invece quelli che chiamerò, ma non li chiamo io così, tecnocrati, e che sono quelli che hanno scritto sia l'Accordo di Parigi che le raccomandazioni europee. Prima cosa, la letteratura e la cultura umanistica sono scomparse, non vengono neanche nominate, non fanno più parte dell'educazione. Poco più avanti del passo che ho citato in realtà si parla di teatro, però appunto il teatro, l'arte, quale arte, quale teatro, quale autori, non viene mai detto niente, non c'è mai una determinazione concreta e specifica. In secondo luogo, la letteratura e la cultura umanistica sono state annegate nella consapevolezza ed espressione culturali, che tra l'altro è l'ultima delle otto competenze, evidentemente anche l'ordine ha un suo significato, per intenderci viene dopo l'imparare ad imparare e la competenza imprenditoriale. Non solo, quel linguaggio, adesso ve lo rimostro di nuovo, è un linguaggio che definirei così astratto, adulterato, sofisticato, vuoto e derealizzato. Quest'ultimo aggettivo l'ho rubato a Barth, che lo usa in un testo in cui parla di tutt'altro, ma è diverso da irreale. L'irreale è comunque il fantasmatico, l'immaginario, il derealizzato è una cosa che pensa di essere reale, in realtà è totalmente prima di realtà, è vuota nella realtà. Non solo, l'individuo in quel testo galleggia appunto nel vuoto, anche lui, come il linguaggio, e parla da solo, non ascolta la voce dell'altro, esprime se stesso. Cerca di mettere al centro l'espressione del sé, ma è un sé appunto oramai circondato in qualche modo dal vuoto, quella voce dell'altro di cui parlava il Papa. Ecco il testo, quindi in rosso avete il soggetto che parla, che esprime se stesso, e poi soprattutto sottolineerei la buotezza del linguaggio. Tutta una serie di arti e altre forme culturali, in una serie di modi e contesti. Vedete che non si dice mai, si parla senza dire mai nulla di concreto. Ora il problema è che, così ci avviciniamo a noi, alla letteratura e a noi, questo è anche il linguaggio con il quale si parla, non solo, ma anche purtroppo di educazione e di cultura. Non è nemmeno il linguaggio della pedagogia, non apriamo una polemica, forse da un certo punto di vista sterile, almeno la pedagogia più nutrita di filosofia, storia e umanesimo. E' il linguaggio di quella che definirei una buro pedagogia, oppure per essere un po' più precisi, anche se buro pedagogia non l'ho inventato io, ma è un termine molto bello, ne parla di questa cosa, di che cos'è questo linguaggio di cui si parla, con cui si parla oggi di scuola. Nell'ultimo suo libro, questo bravissimo filosofo dell'educazione, si chiama Gert Viesta, ha detto, nel discorso pubblico sull'educazione, le voci della psicologia, della sociologia, dell'economia e della teoria delle organizzazioni, psicologia, sociologia, economia e teoria delle organizzazioni, sono diventate più autorevoli della voce dell'educazione stessa. E ciò pone l'educazione nella non invidabile posizione di dover tradurre conoscenze maturate altrove nella pratica didattica. Non vi ho convinto ancora, provo a farmi un esempio concreto. Nel 2018 l'Italia ha recepito il sillabo sull'imprenditorialità, che deriva da un sillabo ovviamente europeo, se vi interessa approfondire l'argomento, lì sotto vi ho messo un articolo in tre parti della bravissima Rossella Latempa su Roars, l'ho trovata in rete. La competenza imprenditoriale, se riuscite a leggere qualcuna di quelle parole che sono lì in questo cerchio, in questa teoria del tutto, come l'ha chiamata la Latempa, ci sono una serie di parole che sono appunto prese dalla teoria dell'organizzazione, dalla sociologia, dalla psicologia e dall'economia. Insomma, sto cercando di dire che ci vogliono tutti i piccoli granelli di ingranaggi, come nella famosa scena di Chaplin, tutt'altro. Oggi ci vogliono dotati di soft skills, dotati di resilienza, di tutta una serie di qualità, che sono qualità di espressione individuale, di grande capacità, di valorizzazione del sé. Il fatto è che appunto anche quello è una valorizzazione nella forma della merce. C'è una parola, non vi annoio troppo su questo, veramente solo un cenno, però è anche un suggerimento di lettura, c'è una parola che definisce questo linguaggio, ed è governance. Questo suo ferrocissimo critico, De Nau l'ha chiamata addirittura il management totalitario, magari esagerato, possiamo perdere il totalitarismo, però insomma, è un linguaggio totale, questo sicuramente. Qual è il punto della governance? Dice, qui cito proprio De Nau, che la governance riduce la politica a una tecnica, e fa ricorso intenzionalmente al linguaggio disincarnato, perché il suo scopo non è farsi capire, il suo scopo è impapocchiarla, per dirla con un termine che non è evidentemente di denoma mio ora. È un linguaggio soprattutto che cancella i nostri riferimenti politici tradizionali, ad esempio la distinzione fra destra e sinistra, che è ideologica, e li sostituisce con sfide gestionali e problemi pratici da risolvere con grande pragmatismo. È anche un linguaggio, oltre che post-politico, post-umanistico, se invece il linguaggio con il quale parla il Papa era ancora un linguaggio umanistico. Ovviamente non approfondiamo adesso la governance, proviamo solo a domandarci, per arrivare alla conclusione, quali siano le ragioni del successo di questo linguaggio, e perché ha invaso anche l'educazione, come osservava Biesta, che però non lo chiama governance. È riuscito a diventare senso comune, ben al di là dell'ambito educativo. È diventato un linguaggio naturale, e una volta questa cosa si sarebbe chiamata visione del mondo o ideologia. Ha creato una grammatica, al di fuori di quella grammatica non si può nemmeno pensare l'esistente, non a caso chiunque provi a ragionare in termini diversi, come stiamo cercando di fare noi oggi, immediatamente prende una coloritura sospetta di conservatori, di uno che ovviamente vuole la predella, vuole stare in cattedra, difende la cultura tradizionale, quindi tu vuoi umiliare lo studente facendo il famoso vaso, eccetera, eccetera. Conosciamo benissimo questa retorica. Questo linguaggio però, appunto, ha, aggiungerei a questo punto, questa ideologia, questa hegemonia politica e questo potere, il linguaggio del potere, questo oggi, ha gravissimo difetto di separarci dalla realtà e dal mondo, di permetterci di parlare delle cose che amiamo, cioè per esempio la letteratura, come faceva il Papa, cioè con un linguaggio che è ancora umano e comprensibile. La parola disumanizzazione, che Romano Luperini ci ha suggerito come titolo forte di questo convegno, poi ovviamente sfumature e significati diversi. Io, in questo mio intervento, ho provato a suggerire questo. Abbiamo da un lato un linguaggio umano e dall'altro un linguaggio disumano. E non è disumano perché è violento, brutale, tutt'altro, è un linguaggio gentilissimo, però è un linguaggio disumano nella misura in cui ci derealizza, per l'appunto. È un linguaggio adulterante che ci allontana dal mondo, non ci permette di comprenderlo. È un linguaggio che liquida l'umanesimo, non lo nomina, e quindi possiamo definirlo con brutto, me ne rendo conto, parola nuova viene neologismo, ecco, un linguaggio disumanistico. Peraltro è un linguaggio che sembra mettere al centro la persona, in realtà la immergi in un mondo svuotato di senso, evidentemente. Come il secondo confronto dovrebbe aver fatto capire, questo è l'ultima slide, ho finito, qui non si tratta addirittura solo di scuola, qui si tratta della salvezza della specie, visto che si parlava della crisi climatica. Ovviamente la letteratura che è contenuta nella lettera del Papa, quella letteratura che è richiamata anche dalla Laudato Si, perché evidentemente è una citazione di San Francesco, ed essendo San Francesco il Cantico delle Creature, il testo originario della nostra letteratura, vale qua come sintesi, simbolo, epitome di tutta la letteratura. La letteratura ovviamente non salva il mondo, come sappiamo, però ci permette quantomeno di parlare della nostra posizione nel mondo, senza quella dissimulazione, quel ritegno del linguaggio del potere attuale. Le letteratura didattica e politica quindi si richiamano strettamente. Oggi la didattica viene intesa soprattutto come una tecnica, e anche una tecnica, qualche metodo, qualche cosa, qualche saper fare bisogna pure saperlo gestire evidentemente. Però ad un livello più generale bisogna fare attenzione che non diventi una tecnica a fine a se stessa, quindi una tecnica che diventa puro strumentalismo. La didattica ha a che fare con la politica, non nel senso che uno debba sempre per forza dare un significato politico, una curvatura politica a quello che si fa in classe. Politica nella misura in cui la didattica e la pedagogia che informano il discorso di oggi, il discorso educativo contemporaneo, non sono neutrali, sono appunto, discendono da una visione del mondo, e se quella visione del mondo, come spero di aver mostrato, non è accettabile, perché è disumana, è distruttiva, ed è disumanistica, nemmeno la forma che ha data l'educazione evidentemente è accettabile. Quello che dobbiamo fare noi, è già stato detto, è fare, Manzoni, fare, Leopardi, vi potrei raccontare quello che è successo ieri nella mia classe, ma non c'è tempo, fare letteratura, l'accento carico sulla parola fare, è qualcosa di molto concreto, portare i testi, leggerli, interpretarli, fare comunità ermeneutica. Noi domani ci proveremo, ovviamente solo con i presenti, perché i laboratori non si fanno a distanza, e vedremo poi, dopo questo discorso apocalittico, pars destruens, proveremo domani nei laboratori a fare una pars costruens, grazie.